Non bastassero i problemi di classifica e di risultati, Massimo Oddo è costretto anche a convivere con un'emergenza assenze che rischia di diventare quasi cronica. Ormai da settimane il tecnico pescarese è costretto a fare i conti con l'infermeria piena e con le tante assenze che condizionano inevitabilmente le sue scelte e lo schieramento dell'undici titolare. Era stato così alla vigilia delle gare con Udinese, Sampdoria e Milan e sarà lo stesso per lo spareggio salvezza con Lempoli che Oddo avrebbe preferito affrontare con qualche defezione in meno e qualche certezza in più. Ma non sarà così. All'appello della sfida con gli azzurri toscani dell'ex Daniele Croce mancheranno certamente Coda, Gheomber e Brugman che è squalificato. Quasi certo anche lo stop per Aquilani a causa della ferita alla testa riportata nella gara di San Siro. Resta in forte dubbio l'impiego dell'attaccante Jean-Christophe Baybec che nella migliore delle ipotesi potrà trovare posto in panchina. Le buone notizie riguardano il probabile ritorno di Verre, quello di Simone Pepe che però per stessa ammissione di Massimo Oddo non è ancora al 100% della condizione. Tanti dunque i problemi per una squadra che domenica alle 12.30 avrà l'imperativo di conquistare i tre punti. Per l'occasione è probabile il ritorno sulla tre quarti di Gianluca Caprari con l'albanese Reimanai, unica punta. In difesa tornerà Campagnaro mentre a centrocampo con Memushai e Verre dovrebbe giocare Cristante. Importante il ruolo di dodicesimo uomo in campo dei tifosi biancazzurri che mai fino ad oggi hanno fatto mancare l'appoggio alla squadra.